Buongiorno Reca, l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale, l'ISPRA, nell'ambito dell'esame del testo unificato del proposto di legge 898 Faenzi e 1049 Fiori, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tattuti freschi o conservati destinati al consumo. Avverto in via preliminare che in base alle recenti disposizioni delle audizioni possono essere trasmessi attraverso la web tv della Camera dei Deputati mentre non è prevista alcuna resocontazione. Richiamo quindi l'attenzione delle nostre ore a tutta la reforma di pubblicità che sarà garantita dove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e quindi dispongo all'attivazione dell'impianto. Ringrazio per aver accolto il nostro invito e sono presente l'ingegnere Luciano Bonci, responsabile del servizio per la sostenibilità della calificazione territoriale, per le aree protette e la tutela del pesaggio della natura e dei servizi ecosistemici terrestri, e il dottor Carmine Siniscalco, responsabile del progetto Speciali Funghi. E c'è da loro immediatamente la parola. Allora, dottor Bonci. Buongiorno. Stai direttamente al mio soffro, per cortesia. Sì, è aperto, sì. Buongiorno, io sono qui e innanzitutto ringrazio la Commissione per averci onorato di chiedere un parere dell'ISP su questa materia. Io sono il dirigente responsabile del servizio sotto il quale adesso è conferito il progetto Speciali Funghi, che è uno dei progetti che l'ISP sta portando avanti da diversi anni, in base al quale coordinando anche numerose associazioni mitologiche su tutto il territorio nazionale. Quindi, detto questo, noi possiamo... Io non so con la Commissione come prevede cosa si aspetta. Noi abbiamo pregisposto sia un documento generale, di commento generale, di sintesi, sia poi un documento che ha risposto il dottor Siniscalco, che è l'esperto poi sulla materia, quindi penso che sia quello che più attentamente ascolterete, che articolo per articolo sui singoli specifici ha fatto delle proprie osservazioni. Quindi non so che cosa... Noi poi vi li possiamo fornire anche, magari perfezionate anche... Certo, anche a seguito delle domande ci potete rispondere o seduta a stato, altrimenti inviandoci osservazioni anche scritte che sono molto gradite, perché poi rimangono agli altri. Come prevede, puoi iniziare a leggere in generale? Allora, guardi, noi abbiamo appunto un paio di cartelle, molto velocemente, in cui ci sono dei commenti generali al testo di legge. Come prima cosa risconciamo sicuramente un positivo valore sul fatto che finalmente il testo base proposto è migliorativo rispetto alle finalità indicate nell'articolo 1-C2 e che finalmente si persegue l'obiettivo di promuovere la tutela e la valorizzazione dei tartufi, ma anche dell'ambiente naturale in cui si riproducono i tartufi. E nonché quindi prende in considerazione anche la conservazione e la diffusione delle provenienze otoccole e delle tartufi e delle piante ospiti. Poi c'è, negli articoli successivi, ci sono una serie di articoli che si concentrano principalmente sugli aspetti amministrativi e di controllo della raccolta, mentre a nostro avviso, così a livello generale, manca o comunque andrebbe un po' integrato l'articolato con delle considerazioni in merito e alla conoscenza necessaria per conoscere gli ecosistemi terrestri e per poter quindi progettare una varia e corretta tutela sia delle componenti micologiche di progete sia delle componenti vegetazionali degli habitat che sono collegate con queste varie componenti. Infatti, in merito alle componenti micologiche di progete, facciamo presente che esse sono migliaia e migliaia di specie delle quali molte sono ancora da scoprire, mentre in generale il testo si limita a parlare solo dei tartufi che sono le nuove specie, che sono quelle commestibili in pratica. E quindi, voglio dire, il testo sarebbe auspicabile che prenda in considerazione anche tutto l'aspetto che riguarda questa moltitudine di essenze micologiche che vanno a comporre in qualche modo quelle complicate nicche ecologiche del suolo che compongono gli ecosistemi terrestri. Le componenti micologiche in generale e quelli ipogeneri specificano e necessitano quindi di grande attenzione sia per gli aspetti che riguardano la conoscenza realizzabile con studi attenti e pluriannali di mappatura e censimento sia per le forme di protezione consapevoli e legionosi in cui gli SV1. Quindi grande importanza assume in questo contesto la raccolta per scopi scientifici considerando, raccolta che nel testo in realtà non viene considerata, almeno così ci è apparso, considerando che questo termine considera tutti insieme le operazioni che comprendono sia la ricerca, prelevo e studio dei coppi fruttiferi, nonché il trasporto degli stessi presso le strutture private che potrebbero essere i genzi di eccellenza per lo studio delle componenti e la biodiversità del suolo, le unità operative del progetto speciale funghi di Ispra, le associazioni micologiche e le conferenzioni micologiche riconosciute a livello nazionale, nonché le strutture pubbliche, quindi università, cenze e seduti di ricerca, nei quali avviene il riconoscimento relativi collegati a studi specialistici. Quindi secondo noi nel testo deve essere messo in considerazione anche l'aspetto di studio e di ricerca che è ancora, perché su questo campo c'è ancora molto da fare. Inoltre riteniamo che anche il suolo con tutte le varie genosi che ospita le componenti micologiche necessitano gli studi specifici e di protezione adeguate. A tal fine Ispra è in grado di poter mettere a disposizione le proprie competenze sia nell'associazione della flora micologica ai sistemi europei di classificazione delle unità territoriali sia negli studi correlati alle funzioni idrofiche dei microrganismi. Infatti l'ecologia del suolo, la conoscenza delle relazioni idrofiche al suo interno e le relazioni tra componenti micologiche e fauna ed africa rappresentano la base del riconoscente sulla biodiversità del suolo e i relativi servizi ecosistemici. Quindi ribadiamo il fatto che insomma c'è ancora molto da studiare su questo tema e sarebbe bene che una legge in qualche modo la prenda in considerazione. Per la protezione della genosi di artuficole esistenti sul territorio nazionale visto che nel testo in qualche modo non è stato trattato ISPRA propone di utilizzare nell'impianto di nuove tartufaglie ma questo forse lascio magari la parola più specifica a tutti gli scalcoli di parlare di questo aspetto. Quello che volevo fare come considerazione finale era semplicemente che diciamo che in conclusione potremmo dire che il terzo il terzo proposto cioè rispetto a questo testo proposto noi riteniamo che sarebbe necessario o meno suggeriamo la necessità di integrare con il testo con riferimenti specifici alla conoscenza della matrice suolo che è poi la base dove si svolgono le componenti micologiche e quindi a tutte le componenti micologiche ipogenee nella sua più vasta entità e non restringere solo ai tartufi. Grazie. Prego, Dottor Siniscalco. Sì, in questo commento generale sono state fatte le osservazioni di massima al testo che ci è stato proposto. È evidente che il mondo scientifico e tecnico si mette a vostra disposizione per poter emendare se è possibile al meglio perché a noi risulta evidente che le conoscenze in questo caso specifico come responsabile del progetto speciale funghi di Ispra sono certo che le componenti micologiche in generale conosciute ad oggi sono solo il 4,5% dell'esistente quindi noi sappiamo quanto ci aspetta come studio per arrivare a conoscerne sempre di più quindi le nostre 80.000 specie conosciute sono solo una minima parte del milione e mezzo di specie che è stato dichiarato con dati matematici certi scientificamente di esistenza di specie fungine le specie micologiche ipogee tra cui rientrano anche i tartufi sono anch'esse migliaia e migliaia di specie quindi restringere il campo dal punto di vista dell'atto dell'atto legislativo solamente a nove specie è francamente molto riduttivo ecco perché noi vi mettiamo a disposizione le nostre competenze e nello stesso tempo vi diciamo che c'è necessità che venga contemplato nell'ambito di un atto legislativo tutto un articolato che riguarda le autorizzazioni di raccolta per motivi scientifici è vero che tutti come è scritto nel testo ed è anche bello che compaia in un testo innovativo rispetto all'atto del 75 che le specie devono essere tutte tutelate però bisogna anche capire che devono essere concessi dei permessi speciali per motivi di studio di ricerca scientifica in modo tale che si possa continuare a scoprire le nuove specie a capire le relazioni trofiche del suolo perché ad oggi noi non sappiamo ancora chi mangia che cosa nei primi 10 cm sotto i nostri piedi distruggere è molto facile quel piccolo strato nel quale noi troveremo il nostro futuro dal punto di vista della ricerca sia anche medica oltre che scientifica e tecnica perché lì albergano tutte le molecole che noi utilizzeremo nel futuro come antibiotici ed altre cose altre molecole quindi questi famosi 10 cm sotto le suola delle nostre scarpe vanno fondamentalmente tutelate e studiate chiaramente bisogna prima studiarle per poterle poi tutelare e conservare ecco questo è il messaggio che noi come mondo di ricerche come io come rappresentante del progetto speciale funghi e di quelle circa 20.000 persone che tutti i giorni collaborano con me in tutto il territorio nazionale sotto vari aspetti università istituti di ricerca addirittura volontariato perché molte associazioni di volontariato che ci danno i dati gratuitamente e scientificamente validi lo fanno col semplice e col mero volontariato quindi tutto questo mondo vi chiede di tenere presente questi aspetti cioè tutelare però prima conoscere e chiaramente poi abbiamo anche rivolto il nostro interesse a quello che ci avete chiesto nello specifico del testo base attenendoci solamente almeno noi del servizio giustito dal dottor Bonci e come progetto speciale funghi attenendoci solamente agli aspetti tecnico scientifici nell'ambito ambientale tutte quelle altre materie che riguardavano la commercializzazione la conservazione e la commercializzazione scusate conservazione e commercializzazione e le abbiamo lasciate a chi ha le competenze specifiche che non si può fare i tutologi nella vita cioè noi siamo tecnici specialisti di tematiche ambientali quindi chiaramente ci siamo rivolti solo ed esclusivamente alle nostre competenze io sarei a disposizione se avete qualche domanda specifica se poi volete che io faccia un articolato del testo base ma mi sembra un po' casomai vi inviamo un testo poi mi sembrerebbe prolisso insomma non so se il Presidente è d'accordo sentiamo magari anche le domande dei colleghi sì sì poi all'onorevole Cagnarli grazie Presidente ringrazio gli auditi volevo chiedere se dal punto di vista scientifico visto che abbiamo avuto diverse audizioni e ci sono stati pareri discordanti per quanto riguarda il calendario di raccolta se scientificamente è migliore prevedere un calendario nazionale quindi per tutte le regioni con dei periodi di fermo oppure se è più indicato lasciare la cosa quindi in mano alle regioni grazie Presidente intervengo per ringraziare vivamente il Dottor Carmine Siniscalco e il Dottor Bonci per l'elevato contributo scientifico che hanno apportato a questa audizione colgo coiamo con vivo così interesse l'aspetto di impegnarci come Commissione Agricoltura la stesura di una legge che non sia meramente di carattere diciamo così commerciale ma che abbia anche degli aspetti ambientali ovvero di tutela degli ambienti tartufiggini e forestali del nostro Paese ho alcune domande da rivolgervi in primis diciamo lo stimolo che è venuto dai vari rappresentanti regionali è stato quello di istituire un protocollo unico nazionale per la certificazione delle plantole forestali microrizzate da questo punto di vista quale potrebbe essere il contributo dell'ISPA potrebbe per esempio accreditare i vivai regionali che fanno microrizzazione un altro quesito questa volta a tutela del consumatore in che modo si potrebbe riconoscere rapidamente una partita di funghi ipogei di tartufi ovvero secondo voi e chi dovrebbe assumersi la responsabilità di questo riconoscimento il raccoglitore il trasformatore e a tal riguardo l'altra domanda è questa potremmo cominciare a concepire il ristoratore un elemento importante della filiera come ultimo trasformatore anziché utilizzatore come è concepito fino a oggi soprattutto da parte del Ministero della Sanità ultima domanda una domanda che probabilmente richiede una risposta molto articolata non abbiamo i tempi per approfondirla tutelare la biodiversità degli ipogei cosa bisogna fare quali sono i suggerimenti da parte dell'ISPRA grazie bene l'onorevole Taricco sì anch'io ringrazio per gli interventi che come dire e soprattutto mi riservo poi di leggere la documentazione che lascerete diciamo così per un approfondimento tecnico mi sollecitava l'intervento fatto dal dottor Siniscalco quando faceva riferimento alle tante specie non citate nell'elenco noi abbiamo avuto nel corso delle audizioni la richiesta di escludere alcune varietà come dire non utili ai fini dei ragionamenti sulla commercializzazione su quelle che sono le finalità della legge che dice che questa legge reca disposizioni sulla raccolta coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo umano alcune varietà non tra virgolette nostre diciamo così perché c'è il rischio di inquinamento genetico e biologico qualora si autorizzasse diciamo così anche solo il traffico o l'utilizzo di determinate specie che potrebbero con le loro spore contaminare i territori e via discorrendo la domanda è questa per quanto a vostra conoscenza risultano oltre alle elencate nove varietà che sono riportate nel testo di legge altre varietà che siano in qualche modo utilizzate per consumo umano perché da questo punto di vista come dire questo è lo spirito della norma è piacerebbe sapere se c'è qualcosa di nuovo che noi non conosciamo grazie bene ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi darei di nuovo la parola ai nostri ospiti dottor delle idee che esolano dalle mura in cui lavorate tutti i giorni cioè è una domanda che si riferisce a cosa effettivamente succede fuori in habitat sta succedendo che anche nel rispetto perché quello del 75 era un calendario leggermente attendibile perché ancora esisteva il concetto delle stagioni oggi una risposta tecnica seria contempla il fatto che bisogna tener conto del cambiamento volenti o nolenti che è in atto degli periodi io non le chiamerei più stagioni di questi periodi annuali di di clima o climatici noi siamo ormai ridotti a due a due grossi periodi annuali uno caldo tra virgolette estivo e uno fresco o freddo anche quello tra virgolette perché in alcuni anni il freddo non abbiamo visto che cos'era di tipo autunno invernale primaverile in alcuni casi quindi questo raccogliere le dodici mensilità in due grossi periodi uno più caldo e uno più fresco freddo viene stranamente viene recepito molto più prontamente dai funghi ipogei cioè da quelli sotto terra rispetto a quelli epigei che stanno fuori terra quindi c'è una risposta più pronta da parte delle micorrize che sono quella serie di funghi che sono legati agli apparati radicali delle piante e quindi alla produzione di questi corpi fruttiferi nello specifico tartufi tra virgolette sono molto più rispondenti ai due periodi che si sono venuti a creare quindi rispondendo in maniera diretta alla domanda dico che è auspicabile io nelle note che ho preparato ho già chiesto e suggerito al legislatore di poter allargare la forbice del periodo di raccolta nel senso mi sono permesso di consigliare almeno un mese prima e un mese dopo quindi anticipare di un mese e posticipare di un mese la chiusura e ad una domanda specifica di questo tipo da specialista che lavora nel mondo dell'ipogei anche nel mondo dell'ipogei da oltre 40 anni vi dico che è auspicabile che il legislatore tenga conto del fatto che l'Italia è disposta di lungo lungo i paralleli in modo tale che sia permesso alle varie regioni che comunque devono recepire da parte vostra il fatto di allargare la forbice se voi lo riterrete opportuno ma io come esperto della materia vi consiglio di farlo perché se no altrimenti danneggeremmo lo spirito di questa legge è di incentivare anche di aiutare la raccolta e la commercializzazione del tartufo noi obbligheremmo i cavatori a lasciare in terra il materiale nel momento quando realmente viene prodotto quindi è un consiglio del mondo scientifico di allargare la forbice ed è molto bene è ben posta la domanda quando ci chiede ma pensate che come tecnici che l'Italia essendo disposta in una certa maniera debba avere dei calendari diversi regione per regione secondo me è plausibile perché non c'è niente di strano se un cavatore piemontese del famoso tartufo di alba tra virgolette quindi tuber magnatomo picco ha dei suoi periodi per raccogliere il bianco a differenza di molti amici che ho in Basilicata dove loro stessi raccolgono il bianco ma in altri periodi a titolo di esempio vi posso dire che domenica pomeriggio mi hanno portato alla determinazione scientifica come progetto speciale funghi cavati qui intorno Roma dei scorzoni invernali che non sono il residuo dell'inverno passato ma sono il frutto maturo dell'inverno che deve venire quindi se questo può essere utile al legislatore per poter avere le idee più chiare io non ho difficoltà a farvi anche degli esempi la seconda domanda era sul protocollo nazionale per l'accreditamento dei vivai noi in Italia già dagli anni settanta abbiamo degli ottimi vivai per la produzione delle piante inoculate con componenti micologiche ipogee vi dico componenti micologiche ipogee perché il termine tartufi è molto riduttivo è stretto so quello che è lo spirito della legge però chiedo al legislatore di recepire tecnicamente questo concetto i nostri vivai sono molto capaci l'unico problema è che non esiste un controllo sulla provenienza del seme delle piante che poi produrranno le plantole che verranno inoculate in ambiente sterile e non c'è la certezza del materiale tartufigino che va a costituire quella famosa massa di inoculo che viene messo vicino all'apparato radicale per fare questo è possibile che i carabinieri forestali io poi non so francamente tecnicamente se gli sono state tolte delle competenze ma finché era corpo forestale dello Stato avevano tutte le competenze specifiche per poter selezionare in ambiti locali piante produttrici di seme noi come ISPRA sicuramente abbiamo le competenze e anche all'interno del nostro servizio per poter avere il registro delle piante donatrici di seme nel contempo vivai specializzati possono essere accreditati a livello regionale quindi penso sia necessario da tecnico che le regioni facciano la loro parte per cui le regioni devono accreditare i loro vivai i vivai accreditati poi secondo me dovrebbero essere non iscritti in un albo non in un albo in una lista troverete voi come legislatore la formula giusta e corretta che noi di ISPRA possiamo mantenere quindi noi essere il punto di riferimento sia per le regioni quando hanno compiuto i loro passi sia per i vivai per potersi far accreditare quindi avere una lista di accreditamento per cui da qualsiasi parte venissero richieste specifiche noi di ISPRA potremo indirizzare regione per regione ambito per ambito i vivai specializzati nel produrre quel tipo di piante con quel tipo di inoculo fungino desiderato poi conoscere la partita ogni partita credetemi il cane il cane cava a proposito del cane mi permetto di suggerire se è possibile di recepire un concetto che dà adito a molte interpretazioni quando si dice nelle leggi cane io se è possibile vi prego di specificare un cane perché se noi vogliamo tutelare l'ambiente cerchiamo di evitare che molti cavatori utilizzano orde di cani che vengono addestrati al riporto per cui non vengono chiuse le bughe viene fatto scempio dell'ambiente quindi è opportuno che sia un cane poi casomai nelle note ho fatto anche riferimento dove è giusto è indispensabile addestrare un cucciolo fino a un anno il cucciolo fino a un anno può accompagnare il cane addestrato ma un cavatore deve uscire con un cane perché se no non ha il tempo di chiudere le buche non ha il tempo di fare le cose quindi riconosce la partita ogni cavatore siccome nell'ipogeia è molto complesso il riconoscimento e spesso e volentieri è necessario alla microscopia il cavatore lavora generalmente di esperienze e con terminologie locali che non sono riferibili alle terminologie micologiche botaniche quindi è preferibile che le partite vengano certificate dal come si può dire dal centro di raccolta perché generalmente i cavatori conservano il materiale raccolto in frigorifero poi passa un intermediario del raccoglitore che poi li commercializza e li raccoglie glieli paga e li porta così tra virgolette alla sede centrale nelle celle quindi in quell'ambito secondo me dovrebbe essere fatto un riconoscimento micologico serio certo perché nel campo dell'ipogeia è facilissimo certe volte non per 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 voler frodare come principio ma è molto facile che ci siano delle delle problematiche che inducano all'errore quindi è giusto che nei centri dove poi avviene lo smistamento e la commercializzazione ci sia un riconoscimento micologico perché noi in Italia abbiamo 2-3 mila bravissimi micologi che possono operare serenamente e espletare le proprie competenze abbiamo una serie di esperti e bravi professionisti iscritti all'albo che non hanno nessun modo di poter manifestare le proprie competenze quindi mi sembrerebbe giusto e corretto che il materiale venga certificato proprio per evitare il concetto delle frodi anche nell'ambito dell'inoculo vivaistico perché io personalmente scientificamente ho grossi dubbi su tutto quello che è stato prodotto negli anni 70 e 80 se permettete c'è stata una grande spinta verso la vivaistica forestale e nell'impianto di piante tartufiggine che venivano certificate come micorizzate non venivano certificate per quale specie erano micorizzate si diceva la specie che era micorizzata la specie principale però se vi metto davanti una partita di tuber melanosporum e all'interno vi ci metto dentro tuber brumale tuber brumale varietà moscatum ed altre specie che io conosco all'interno di quella partita voi avete 5-6 specie di questo elenco che voi avete proposto a noi per questa audizione e non si tratta di una specie sola lì allora c'è inquinamento ambientale quindi l'inquinamento ambientale oggigiorno non siamo più negli anni 70 diventa una materia importante e bisogna essere coscienti che si può fare qualcosa per evitare che questo accada poi l'ultimo trasformatore questa è una materia triteritrita anche per i funghi ipogei scusate epigei e nel contempo io scientificamente e non personalmente credetemi sono arci convinto che il ristoratore non è l'ultimo utilizzatore il ristoratore è un trasformatore come lo è l'ortolano che è costretto qualsiasi possessore di un negozio di ortofrutta o anche grande distribuzione come volete voi è obbligato a fare un esame per poter conoscere le specie che vende secondo me il ristoratore non può acquistare sotto banco i tartufi direttamente dal cavatore perché non c'è chi li certifica non c'è la certezza della specie e di qui ogni tanto visto che io sono anche esperto di micotossicologia accreditata al ministero della salute vi dico che spesso e volentieri qualche volta qualcuno è andato anche all'ospedale qualche pullman dei turisti perché hanno mangiato una specie di tartufi al posto di qualche altra specie di tartufi si dice il peccato non si dice il peccatore però è bene che il legislatore tenga conto che per quanto riguarda la ristorazione non è una stretta di vite non è è un voler condizionare un mondo che fra le altre cose a noi tecnici ci sta molto lontano però è un voler far capire al legislatore che il ristoratore è un trasformatore quindi siccome è un trasformatore è giusto che lui debba rendere conto di quello che fa poi tutelare la biodiversità dell'ipogei ma secondo me la biodiversità dell'ipogei si può tutelare intanto permettendo la ricerca per motivi scientifici perché se noi non sappiamo non si va da nessuna parte e poi si può benissimo benissimo fare in modo come il legislatore e voi avete suggerito di fare che alla fine di ogni anno qualsiasi cavatore debba relazionare dicendo dove è andato cosa ha trovato e però nel contempo vi suggeriamo di fare in modo che questi si appoggino alle associazioni micologiche sul territorio nazionale ce ne sono oltre 130 di livello nazionale riconosciuto poi ce ne sono un altro centinaio di livello non riconosciuto quindi si può benissimo fare in modo che essi ricorrano alle associazioni micologiche che poi operano col volontariato quindi non devono spendere nemmeno dei denari però in questa maniera le associazioni secondo me dovrebbero essere obbligate a consegnarci i dati a noi e a Ispra perché così nel contempo ci aiutate ad avere dati di mappatura e censimento e nello stesso tempo abbiamo un polso della situazione anche di quello che non riguarda il commerciale quindi penso che anche i cavatori di natura non commerciale ma che lo facciano per spirito proprio in Italia non credo che il legislatore voglia impedire a una persona di farsi quattro passi nel bosco col cane penso che sia ci sono tantissimi aspetti socio sociali ludici quello e quell'altro da tutelare però queste persone devono comunque rendere conto del loro patentino in fondo all'anno si pagano una cifra per poter accedere alla raccolta però è anche giusto che ci dicano dove sono stati e cosa hanno trovato e questi dati che vengono trasmessi a noi che francamente lottiamo molto per accrescere alla nostra banca dati nazionale che siamo riusciti dal 2003 dove non avevamo un dato di mappatura e censimento ad avere oltre 130.000 record di mappatura e censimento e questo ci permetterà di fare la checklist dei funghi italiani tra cui compaiono anche le componenti ipogee micologiche ipogee che voi in questo momento state trattando poi l'ultima mi pare era rispondo a lei la lista delle specie la lista delle specie io mi sono permesso di suggerirvi la terminologia corretta perché c'era ho tolto un sinonimo arcaico che era un sinonimo del bianchetto che era l'albidus e ho lasciato tuber borchi non ho introdotto volutamente il concetto di gruppo puberorum perché tutti i bianchetti di cui fa parte il borchi sono gruppo puberorum ma essendo tutti gli altri 6-7 specie molto più rare sul territorio nazionale e quindi da tutelare mi sono permesso di consigliarvi nel testo che poi gli manderemo di consigliarvi di intestare solamente a tuber borchi la categoria bianchetti per capire sono marzuoli anche qui mi permetto di ricordarvi che i bianchetti dovevano essere finiti alla fine di marzo domenica pomeriggio a 20 km da Roma verso il mare me ne hanno portato una chilata solo me le hanno sottoposte all'esame di microscopia quindi tenete presente che i nostri boschi quindi la mia richiesta di allargare la forbice scusate se mi ripeto è motivata perché c'è anche un'esperienza di rietta scientifica che può venire di conforto quindi siamo alla metà di maggio il tuber borchi e anche del puber è ancora in produzione sta producendo ora quindi essere molto come posso dire attaccati alla dinamica del calendario potrebbe essere controproducente e tornare poi riflettersi negativamente nell'applicazione quando poi lo spirito del legislatore è quello di migliorare una legge esistente vecchia del 75 quindi la lista delle specie per chiudere per rispondere esaustivamente alla domanda potrebbe essere un po' più ampia per quanto riguarda anche l'alimentazione però io sono convinto che l'essere rimasti su quelle nove specie io per esempio non avrei fatto differenze se posso permettermi e nel testo non mi sono permesso nemmeno di suggerirlo però visto che è arrivata una richiesta specifica io visto che qua si fa differenza tra la forma moscatum del brumale e il brumale tipus vi consiglierei di parlare di brumales nelle sue forme o varietà cioè ridurreste di una specie senza fare danno ad alcuno perché in ogni caso o forme o varietà di una stessa specie diventa solo poi un compito del micologo riconoscitore all'atto della certificazione però il legislatore lascia un margine di ampiezza quindi una specie potrebbe essere ridotta ho solamente corretto il tuber borchi togliendo la vecchia forma albidus che ormai è obsoleta e impropria vi ho suggerito che il tuber magnatum l'aveva descritto per la prima volta picco e non picco perché ho fatto io nel 2014 una volta per sempre a livello mondiale una ricerca verso gli archivi di Torino sia quello ecclesiastico che quello civile però prima del 1800 non c'erano dati a quello civile per cui siamo certi che questo signore che era un medico è morto all'età di 30 anni e si chiamava Victor Picco con due c però è bello che il legislatore tenga conto cioè almeno da parte di detto a cuor leggero da un tecnico è bello che il legislatore vada a braccetto con i tecnici specialisti in modo tale da poter poi proporre un testo moderno adeguato corretto anche dal punto di vista della nomenclatura botanica che riguarda i funghi quindi io emenderei come consiglio visto che me l'ha chiesto ora non so il nome dell'onorevole che me l'ha chiesto si potrebbe ridurre il tuber brumale a forme e varietà togliendone uno e se volete anche tuber estivum potrebbe essere ridotto è sempre una forma l'uncinatum tenete presente che in questo momento in Italia non c'è più questa grossa separazione proprio per riferirsi al calendario sta grossa separazione tra tuber estivum e tuber estivum forma uncinatum perché non è più quello estivo e quello invernale ormai sono mescolati tra di loro un po' dappertutto quindi si può dire la stessa cosa ridurcendo nella lista una specie perché è una forma o una varietà quindi non c'è niente di male va bene penso di aver concluso scusate non so se sono stato un prolisso no va benissimo noi abbiamo bisogno anche di informazioni è una materia estremamente complicata dettagliate per appunto come diceva lei migliorare la normativa per cui bene io ringrazierei i nostri ospiti se rispetto alle cose che sono state poste intendete inviarci anche degli approfondimenti per scritto grazie siamo grazie grazie